2 gennaio benvenuti a tutti su cper tv anzi bentornati dopo le feste questo dovrebbe essere il primo giorno di lavoro ma molti faranno il ponte ancora fino a domenica non importa noi comunque la classe ce l'abbiamo ed è 10 front rack lunges dovete costruire un set pesante e poi tre round e 15 lateral bar piece 12 bar massolap e 9 metri di overhead lunges come al solito pesi scalature sulla grafica qui di fianco non mi resta che augurarvi buon vuote e a domani per un'altra classe insieme su cper tv